Buongiorno mister, Andrea Colella, Juventus.com. Le chiedo, dopo cinque settimane di preparazione finalmente si comincia, iniziano le partite con punti in palio. Le chiedo quanta voglia, quanto entusiasmo c'è all'interno del gruppo per iniziare bene la stagione. Grazie. Tanta. Non vediamo l'ora di arrivare alla partita di domani, poter competere contro l'avversario e arrivare al nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è fare una grande prestazione e alla fine portare il risultato che vogliamo. Buongiorno mister, Giovanni Albanese, Sport Italia. Ti chiedo se si aspettava di cominciare in una situazione d'emergenza questo campionato, con pochi giocatori, il mercato ancora che non ha dato la maggior parte delle soluzioni, e se la situazione di McKennie è da ritenere un caso isolato o c'è ancora la possibilità di reintegrare altri fuori rosa. Grazie. Prima cosa, McKennie è un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per affrontare la partita, possono giocare solo 11. Ho la possibilità di fare cinque cambi, non di più. Stiamo bene, una buona preparazione, questa settimana buoni allenamenti, con intensità, tutto quello che vogliamo vedere, e pronti per affrontare la partita di domani. Buongiorno, Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport, a proposito appunto di questa scelta così netta di allenare e di portare poi in panchina soltanto un numero limitato di giocatori, se puoi aiutarci a capire le motivazioni che ti hanno spinto comunque a muoverti così. Merito, tutti i giocatori che vengono domani se lo meritano di stare con la squadra, partecipare, giocando dall'inizio o dover entrare durante la gara per aiutare la squadra. Buongiorno, Romero Agresti, ilbianconero.com. Le chiedo, mister, senza entrare nello specifico, se è tranquillo per quanto riguarda il tema mercato. Molto, stiamo lavorando bene e al massimo per insieme costruire una squadra competitiva. È arrivato il rinnovo, è la 10 per Ildiz, è una pressione in più, un impegno in più per il giocatore, è un peso in più, come l'ha visto? È una responsabilità. Abbiamo un giocatore che sicuramente porta oggi un numero storico per diverse ragioni, però allo stesso tempo abbiamo un giocatore forte, con grande qualità e soprattutto con il lavoro. è un ragazzo che ha questa cultura per il lavoro e questo è importante, è da sottolineare una cosa molto importante e trasmette anche agli altri, a di là della sua età, perché anche essendo molto giovane è cresciuto molto bene, è imparato molto bene e ripeto, di grande qualità ma anche grande rispetto per il lavoro. Buongiorno mister Nicola Gallo, Gruppo Mediapason. Le chiedo se forse giocare per ultimi non può essere un vantaggio, visto che mi sembra che l'allarme stia un po' suonando. Ieri tre grandi favorite, Fiorentina, Inter e Milan, sono andati in conto a risultati che non ci si aspettava e quindi per i suoi ragazzi essere chiaro che fin dall'inizio nessuna partita ha un esito scontato e se tre punti possono essere utili non per la classifica che è tardi guardarla, anche se ovvio è meglio, ma per dare consapevolezza a un gruppo che essendo molto rinnovato questa percezione ancora deve farsela. Nella vita, uguale come nel calcio, niente viene per il scontato, dobbiamo meritare. E noi, concentrati su noi stessi e concentrati sulla partita di domani, abbiamo di fronte una squadra che è salita dalla Serie B, vuol dire vinte tante partite per arrivare in questo momento, porta con sé sicuramente un grande entusiasmo, noi con grande rispetto come per tutte le avversarie sarà la prima combo, con tutto il rispetto, però dando il nostro massimo competere e arrivare al risultato che vogliamo noi. Buongiorno, Alessandra D'Angioara, iSport. Tante squadre hanno cambiato guida in panchina, in questo inizio di campionato e abbiamo iniziato a sentire le prime parole. Fonseca apertamente ha parlato di Milan che può lottare per lo scudetto, Conte invece al Napoli ha parlato di anno zero e di ricostruzione. E lei che dichiarazioni e intenti ha per la sua Juve? Fare il massimo domani, competere con il Como e avere il risultato che vogliamo. Questo è il primo passo di tanti altri che dovremo fare durante la stagione. Passo a passo. Buon pomeriggio mister, Simone Nasso, oggi Sport Notizia. Lei e Fabregas avete in comune qualche aspetto, tra cui un passato dai giocatori del Barcellona e il fatto di essere stati entrambi quasi degli allenatori in campo. Le chiedo quanto un'esperienza come quella che ho appena menzionato può influenzare le idee di un tecnico e se pensa che anche in virtù della storia di Fabregas dovremo aspettarci un Como che domani si presenterà Torino a viso aperto. Grazie. Hanno giocato sempre così. Di là della storia di ognuno che ne abbiamo tutti e ognuno ha il suo percorso. Domani affronteremo, ripeto, una buona squadra anche con giocatori in campo con un'esperienza il caso di Peppe il caso di Moreno il caso di stesso Belotti una buona squadra che con rispetto la affronteremo al massimo cercando di portarla sempre della nostra parte. Quello che conviene a noi no a loro. Buongiorno mister Marco Baridano Juventus 24 in bocca al lupo innanzitutto per la nuova stagione. Le volevo chiedere ai giocatori che hanno più stupito in questa prestagione cioè UEA le chiedo se è rimasto sorpreso dall'americano e in cosa può migliorare ancora nel suo percorso di crescita. Grazie. Migliorare può migliorare in tutto però ha la predisposizione che è la cosa più importante a farlo non sono sorpreso anche se l'ho conosciuto era molto giovane però si vedeva già delle caratteristiche e delle potenzialità dove oggi la può esprimere perfettamente è arrivata a un'età dove sta molto bene e sicuramente sarà di grande aiuto alla squadra. Buongiorno Antonio Paolino Radio Bianconera le chiedo se è d'accordo sull'etichetta di una Juve ancora imperfetta e se di conseguenza si aspetta qualcosa dal mercato. Grazie. È la risposta che ho dato prima e stiamo lavorando al massimo e bene per costruire insieme una squadra competitiva e oggi siamo concentrati a fare una grande partita contro il Como tutto il resto vedremo vedremo dopo. La cosa più importante anche se a voi non vi piace troppo parlare della partita anche se domani giochiamo una partita noi siamo concentrati su questa partita qua a giocare bene a fare bene il nostro lavoro e avere il risultato che vogliamo contro il Como Salve mister Giorno Codino La Stampa a proposito di questo volevo chiedere domani devo buttarti in casa di fatto il ghiaccio l'avete già rotto in quella amiche o in famiglia quindi volevo chiedere innanzitutto quali saranno anche che emozioni pensa di provare e due soprattutto che prestazione pensa di ottenere da una squadra che appunto sicuramente magari mancano ancora dei pezzi però evidentemente deve darle già delle risposte quindi quali risposte si attende grazie prima cosa abbiamo fatto una buona preparazione abbiamo fatto una buona settimana di lavoro domani è un momento la prima partita in casa di grande entusiasmo di grande felicità che va approfittata bene mettere tutta la nostra energia a affrontare la partita e e di ringraziare ringraziare prima la partita il momento mi sento io come i miei ragazzi dei privilegiati a vivere un momento così meritatamente ognuno di noi entreremo in campo con questa energia con questo entusiasmo per affrontare al massimo la nostra avversaria come faremo una come ho detto abbiamo fatto una buona preparazione la nostra idea a fare sempre una buona prestazione per avere il risultato tutto il resto dopo la partita quando mi farai la domanda magari o forse se viene allora ti posso rispondere oggi adesso diventa difficile prima la partita buongiorno le volevo chiedere rispetto al precampionato in cui ha parlato di Chiesa se la sua posizione oggi è cambiata in qualche modo la sua situazione è variata e se ha avuto modo nelle ultime settimane di parlarci di confrontarsi con lui grazie no non è cambiata abbiamo parlato internamente è una grande dimostrazione è la dimostrazione di rispetto che ho per tutti i miei giocatori internamente trasparenza chiarezza questo è il modo che io riesco a trasmettere ai miei giocatori rispetto internamente molto chiaro non ha niente cambiato Stefano Salandini tutto sport buongiorno Tiago buongiorno mi hai ritrovato senti se volevo capire due cose la prima è il convitato di pietra che può esserci domani cioè in questa partita sono più gli assenti che devono arrivare dal mercato o i presenti che sono appunto fuori per scelta tecnica come detto ora e la seconda cosa riguarda invece un giocatore che è Vlaovic che ha avuto questa difficoltà a segnare durante il precampionato lui vive molto sull'emozione sul fatto di dare questo come lo vedi e cosa ti attendi che tipo di sensazioni hai sulla sua serenità grazie lo vedo molto bene lavorando bene aiutando i suoi compagni e noi a a a a tenerlo sempre stretto con noi e che possa dare una grande mano perché quando ho fatto la presentazione già mi avete chiesto su il ragazzo un grande giocatore ma tutti i grandi giocatori hanno bisogno della squadra il nostro presente oggi è il gruppo che andiamo domani ad affrontare Como e sono molto contento grande entusiasmo abbiamo una grande energia per fare un grande lavoro domani e portare a casa quello che abbiamo che abbiamo pensato e quello che vogliamo noi tutto il resto niente buongiorno Emanuele Gamba della Repubblica volevo chiedere questo non molti anni fa quando la Juventus passò da Allegri a Sari quindi cercò di cambiare i principi di gioco incontrò il nuovo allenatore una forte resistenza al cambiamento volevo sapere se a lei è successo qualcosa di simile oppure no e poi su McKennie visto che l'ha giudicato utile e funzionale sapere come mai soltanto adesso ha deciso di portarlo in prima squadra grazie McKennie ho già risposto alla domanda prima e sui concetti no nessuna difficoltà è calcio ognuno di loro sanno il ruolo che devono fare dentro al campo anche con degli scambi non vedo nessuna difficoltà per il momento e stiamo bene abbiamo lavorato bene preparato bene la partita e domani affrontarla come sempre dando a ognuno di noi il nostro massimo per il bene della squadra salve mister Cristiano Corbo calciomercato.com le chiedo di Miretti intanto le condizioni del giocatore se magari ha maturato in questi giorni in queste settimane la decisione magari che abbia bisogno di un percorso altrove di crescita grazie Miretti non sarà con noi domani sta facendo un lavoro differenziato in questo momento quando sarà nel gruppo ne parleremo è un ragazzo che sta lavorando bene è iniziata la preparazione con noi molto bene però purtroppo domani non fa parte del gruppo e bene quando sarà nel gruppo ne parleremo di Fabio grazie a tutti buona giornata e a domani grazie 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 grazie